Il mio nome è Francesco Rivola, sono un manager di progetto e ho lavorato in HTG da 2015. La organizzazione è basata in Torino. Siamo in business da 1989. Il mio obiettivo è di provare software per la industria di transporte. La soluzione era necessaria perché l'Italia non ha permesso soluzioni completamente semplici. Quindi abbiamo bisogno di permettere ai nostri clienti, che sono le compagnie di transporte, per fare che il destinato signo il pod, e poi scannare rapidamente e riconoscere documenti, e li associano con il numero di consignamenti, in order di mangiare dentro del sistema di transporte. Procettiamo di circa 10.000 a 15.000 documenti. A4 o A5 Davide Noles. I barcodes che sono scannati sono scritte su paper. Il simbolo barcode è code 128. Abbiamo chiesto di trasferire da un programma vecchio Windows che avevamo prima, a una applicazione web. Abbiamo cercato di trovare una soluzione realiabile, con il minimo esforzo di essere trasferito. Abbiamo scannato il nodo del delivery, riconoscendo il barcode dentro del delivery, e quindi ogni volta che troviamo il barcode, sappiamo che il barcode è associato a un consignamento specifico. Una volta che la riconoscenza è fatta, il software envia documenti in formato PDF a un servizio specifico. Il servizio è considerato automaticamente come consignato una volta che il documento è scannato. Quindi il nostro software interagisce con l'SDK perché, quando il documento è dentro del sistema di gestione, il sistema di gestione, sappiamo che il servizio è stato consignato. Abbiamo consigliato DynamSoft perché è rilevante, è rilevante, è affidabile, è facile da usare e è versatile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.